Salve a tutti ragazzi qui è il vostro Siricon92 e ci ritroviamo come sempre in un nuovo video su Warzone Sfortunatamente anche questo video contiene le gesta magnifiche di un citerone che ci farà 52 bombolozzi Quindi ragazzi niente da dire vi lascio alla partita che era una partita difficile ma stavamo recuperando E poi abbiamo trovato il citerone Quindi ragazzi vi lascio a metà video le classi delle armi che ho utilizzato, un QBZ e il fennecone nazionale E mi raccomando abbonatevi al canale, attivate le notifiche per non perdere i miei video Ci vediamo in game, bella voglio Vabbè C'è 3 in, non c'è un'arma E allora hanno lo stun e lo gioco Oddio, oddio, oddio No cible non è stato touchato Non cible non è stato touchato Contra terminato Voi ancora morti Vieni qua farter le autorazzi Vieni qua farter le autorazzi Stanno bruciando raga li vedo Eh vabbè Quella a sinistra è crackato Andiamo già sopra le montagne? Eh vogliamo, fai lo doubt La giù raga che dite Eh proviamo 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 Raga mo' ce la dobbiamo camperare eh Eh ma senza Mooney Stai tu c'hai qualcosa? Oh si va al salto Ne ho 210 Eh 60 a te, 60 ad alfo Mitraglietta Ti lascio la mitraglietta che intanto Eh si si ve li lascio tutti Tanto non li uso io Vedeteli? Ci sta una macchina la eh Qua la gente sopra qua Stanno a spararla Sparò la macchina Eh E' a terra quello la? Ti ha dato di magnetato o no? No no Adesso ti magnetato Ok allora mi vado nato Era quello lì secondo forse Ah 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 Putain bella Arrivò Arrivò Arrivò, arrivo, arrivo, arrivo Perché è sceso uno qua Proprio adesso Dove dove Un altro fatto Un altro fatto? C'ho i soldi possiamo prendere cose raga Un bombardamento invece dell'uave Eh no uave vediamo un attimo chi ci sta Datemi i soldi Dammi i soldi sta Ah Arrivò Occhio a questi qua chissà Ve lo fanno fare questi bassi Mettete dei bimbi Nooo ma come cazzo? Ma dai ma come hai fatto a vedere? Pronto? No no Era impossibile vedermi Ragazzi dove aveva fatto Questa da destra mi sparano No 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 Sì sì no è lo stesso che ho fatto a me ragazzi È lo stesso che ho fatto a me Sì 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 Mi sparò attraverso qua Non mi vedo Ah beh ma è perso Cioè questi sono invincibili Sono qua in alto Ho fatto tutte queste qua Guarda sempre lui guarda 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 Fatti che lo segnalo Fatti che lo segnalo Aspetta fateli finire la partita Fateli finire la partita 50 bombe Video per domani Guarda 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 Almeno giacca senza ritegno Non si nasconde Anche l'altro mi sa Sono in due Vai vai Uscito Mamma mia Paganda Un'ora